Se una ragazza legge ma non risponde al tuo messaggio e tu aspetti sperando che prima o poi ti risponderà, rischi di fare questa fine. Diciamoci la verità, non c'è niente di più snervante dell'attesa di una risposta. Mamma mia che ansia! In questo video ti rivelo le quattro cose che devi assolutamente evitare se ti trovi in una situazione del genere. Inoltre ti dirò esattamente le mosse che devi applicare per aumentare drasticamente le tue probabilità di risposta e ovviamente per arrivare ad un appuntamento dal vivo. Mi presento velocemente, io sono RT e sono un love coach presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto ti consiglio di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Ok, procediamo. Lo so, quel vuoto assortante di un silenzio senza risposta è un'amara consapevolezza che la connessione con la ragazza che ti piace così tanto si è dissolta nel nulla. E ti trovi lì da solo con il tuo telefono in mano che controlli in maniera ossessiva domandandoti sul perché. Perché? Perché? Perché non mi risponde? Forse perché sei un'esimia a testa di cazzo? Naturalmente no. Ricorda che i tuoi pensieri più ardenti diventano la tua realtà. Pensa sempre a ciò che vuoi e non a ciò che non vuoi. La realtà dei fatti è che potrebbero esserci un milione di ragioni plausibili per cui una ragazza non risponde. È severamente vietato tormentarti sulle ragioni per cui una ragazza non ti ha risposto. Se ti concentri sul problema, quel problema diventa più grande. Se invece ti concentri sulla soluzione, indovina un po' che cosa succede? Trovi la soluzione. Smettila di tormentarti sul perché non ti ha risposto, ma concentrati su un piano d'azione per riaccendere la conversazione. Quindi, per offrirti le migliori possibilità di successo, la prossima volta che non ricevi notizie da una ragazza che ti interessa, evita di fare queste quattro cose altamente dannose per la tua salute sentimentale, che ti porteranno a bruciarti e perdere ogni possibilità di riuscita. 1. Concedile almeno un giorno di tempo per risponderti. Uno degli errori più frequenti che molti uomini commettono quando una ragazza non risponde ad un messaggio è quello di inviare altri messaggi uno dietro l'altro in maniera insistente. Solitamente, quando una ragazza si sta rapportando con un nuovo ragazzo, è molto prudente al riguardo. Non ti aprirà subito le porte del paradiso. Non si metterà subito a pi greco mezzi, ossia 180 diviso 2. E se non ottieni una risposta e le invii un messaggio dietro l'altro, praticamente le stai comunicando che sei invadente, petulante, bisognoso ed eccessivamente coinvolto. Insomma, un rompicoglioni morto di figa. Magari non ti risponde subito perché al momento è impegnata con lo studio, con il lavoro o in qualsiasi altra cosa. Magari sta aspettando perché non sei una priorità e questa cosa ci sta, visto che ti conosce appena. O forse si è semplicemente annoiata della conversazione. Al di là dei motivi che possono esserci per cui non ti ha ancora risposto, riscriverle subito entro le 24 ore non porta mai a dei risultati positivi. Ripeto, se non risponde al messaggio e tu la contatti di nuovo dimostri che hai un disperato bisogno di una risposta. È un atteggiamento da sfigato e gli sfigati alle donne non piacciono. Se insisti continuando ad inviare altri messaggi, le stai dando un valido motivo per cui dovrebbe continuare a non risponderti. Questa insistenza le darà modo di pensare che non hai niente di meglio da fare nella tua vita se non stalkerizzarla. Con molta probabilità lei penserà, lo conosco appena e già mi sta con il fiato sul collo, figurati che succede se iniziamo una relazione. Ora, con questo non sto dicendo che devi assumere un atteggiamento freddo e distaccato, ma devi sempre far trapelare che sei un uomo sicuro di te, che hai una vita, tante cose da fare e non sei alla ricerca di conferme o approvazione. Un uomo sicuro di sé non rimane a casa a tormentarsi sul perché una ragazza che conosce a malapena non le ha risposto. Devi essere produttivo, fai altre cose, dedicati ai tuoi interessi, hobby, passioni, sport, esci con i tuoi amici o parla con altre donne. Due! Non aspettare più di tre giorni per riscriverle. Per rovescio della medaglia, molti uomini, anziché scrivere tanti messaggi di seguito, spariscono del tutto per settimane, evitando così di apparire come bisognosi o disperati. È vero che non devi apparire bisognoso, ma se ti interessa una ragazza ci vuole anche un po' di buonsenso. E come al solito la verità sta nel mezzo. Cioè, non tartassarla di messaggi, ma comunque falle capire che ti interessa avere una comunicazione con lei. Se il tuo intento è autentico nel voler stabilire un contatto con questa ragazza e applichi il silenzio con l'obiettivo di manipolare la sua approvazione, allora anche in questo caso stai manifestando una forma di bisogno. Se è la prima volta che non rispondo ad un messaggio, non ha molto senso induggiare nell'attesa. Così facendo corri il rischio di perdere la tua occasione. Quindi, se non ti risponde ad un messaggio, aspetta un giorno, due giorni, massimo tre, e poi ricontattala seguendo i consigli che ci portano al terzo punto. Tre. Non domandarle perché non ha risposto o se ha ricevuto il tuo messaggio. Se domandi ad una ragazza che hai appena conosciuto, Perché non mi rispondi? Lei dovrebbe dirti perché sei un coglione. È una domanda stupida. Poteva andar bene vent'anni fa, quando il telefono non era collegato ad internet, non esistevano i social come Instagram e WhatsApp, e si comunicava solo attraverso i messaggi tradizionali della linea telefonica. In quel caso poteva non arrivare, anche se era raro, ma poteva capitare. Ma nell'era attuale, quando invia un messaggio, arriva sicuro al 100%. WhatsApp te lo dice, Instagram te lo dice, Facebook te lo dice, il messaggio è arrivato. Magari non è stato visualizzato, ma arriva. Ed anche se effettivamente non lo visualizza, in realtà lo vede che gli è arrivato. Dalle notifiche. Dalle notifiche del cellulare, infatti, è possibile leggere un messaggio senza aprirlo. Nella maggior parte dei casi, se una persona ti dice, non ho visto il messaggio, sta mentendo. 4. Non proporle subito un incontro dal vivo. Un altro errore che commettono in molti è quello di approcciare una ragazza dicendole, ciao sei bellissima, usciamo insieme? Oltre ad essere un messaggio da disperato che gliela fa seccare completamente, non puoi assolutamente proporre di uscire ad una ragazza che non conosci, con cui non hai prima instaurato alcun tipo di rapporto, soprattutto se il tuo messaggio precedente, rimasto senza alcuna risposta, era un tentativo di organizzare qualcosa insieme. Immagina questa scena. Un ragazzo scrive ad una ragazza. Usciamo insieme, così dal nulla, senza alcun tipo di presupposto. Lei non risponde e lui riscrive un secondo messaggio. Usciamo insieme e lei naturalmente continua a non rispondere. Il ragazzo a quel punto riscrive un terzo messaggio. Perché non rispondi? E ovviamente lei continua ad ignorarlo, anche se dovrebbe rispondergli che è un deficiente e non lo fa per non infierire. Ricorda che anche il silenzio è una risposta. E se una ragazza non risponde, c'è un motivo valido. E molto spesso il motivo è che non c'è abbastanza confidenza da sentirsi a suo agio per accettare un appuntamento. Forzare ulteriormente la situazione senza prima costruire una connessione genuina equivale a sbattere continuamente la testa sempre sullo stesso spigolo. È molto più saggio inviare un messaggio informale a Vincente per instaurare uno scambio di messaggi e solo dopo successivamente proporle di uscire. Quando lei dimostra interesse ed esprime emozioni positive, ma se ha mantenuto il silenzio dopo il tuo primo invito, è cruciale rendere significativo il secondo messaggio. Perché devi affrettare le cose e sprecare un'opportunità? Devi inviare messaggi meno impegnativi e più leggeri per creare l'atmosfera giusta e farla sentire più sicura sulla vostra connessione. E questo ci porta al consiglio finale che ti ho promesso all'inizio di questo video su come agire correttamente per arrivare ad un appuntamento. Ed il consiglio è quello di Falle vivere emozioni positive e solo dopo invitala ad uscire. Ci tengo a precisare che io non sono un fuffa guru sparacazzate che ti promette la luna nel pozzo. Non ti venderò mai un corso dove ti garantisco che conquisterai una donna in 28 giorni come molti pseudoguru fanno. Che di seduzione non ci capiscono un tupo. Che poi, perché 28 giorni? Questa cosa non l'ho mai capita. Quando in realtà, se ti muovi bene, puoi impiegare molto meno tempo per conquistare una ragazza. Poi, naturalmente, varia da caso a caso. È dal 2008 che aiuto gli uomini a saperci fare di più con le donne e non mi sono mai, mai, approfittato di chi aveva dei problemi con il gentil sesso. Sia ben chiaro. Prima di tutto perché le mie strategie funzionano e ci tengo a precisare che sono una persona onesta. Come ti ho già accennato in precedenza, le donne spesso smettono di rispondere per una serie di motivi diversi. Tuttavia, la radice del problema, di solito, risiede nel fatto che non sono ancora sufficientemente coinvolte e al loro agio per incontrarti di persona. Questo perché, fondamentalmente, all'inizio sei un semplice sconosciuto. La cosa importante da tenere a mente è che i tuoi messaggi devono essere leggeri e non pesanti, brevi e non lunghi. Parlare di argomenti più profondi nei messaggi di testo non è una buona idea. È molto meglio parlare di cose più complesse durante un incontro dal vivo, faccia a faccia e non via chat. Quello di cui hai bisogno per arrivare ad un appuntamento è farle percepire che incontrarti sarà un'esperienza divertente e straordinaria. L'emozione positiva che le fai vivere via chat dovrebbe essere l'anticipazione di una connessione reale che le farà desiderare di risponderti e di vederti. Se le invii un messaggio banale o smielato o privo di emozioni è improbabile che lei ti risponda. Ecco perché messaggi del tipo Ciao, come stai? Oh, che cosa hai fatto di bello oggi? Oh, sei bellissima! Sono messaggi piatti che non la spingono ad aprirsi e ad investire su di te. La chiave sta proprio nel farle sperimentare emozioni positive come entusiasmo, curiosità, gioco e passione quando legge i tuoi messaggi. Cerca di essere spiritoso, ironico, falla ridere, falla divertire. Le donne vogliono divertirsi, gli uomini noiosi non piacciono. Ci sono varie tecniche per riaccendere una conversazione che si è spenta. Una di queste potrebbe essere quella di inviare un qualcosa di divertente. Anche le immagini divertenti in questi casi possono essere molto utili. Per esempio, sul mio corso dove insegno a rimorchiare ragazze su Instagram il corso si chiama Conquistagram puoi trovare una serie di immagini divertenti già pronte come questa ad esempio. Non preoccuparti, risponderà, dicevano. Inviando un'immagine del genere ci sono alte probabilità che la ragazza si metta a ridere sbloccando così, come per magia, una chat ormai spenta. Se per esempio effettui una ricerca su Google puoi trovare un mucchio di immagini divertenti che puoi utilizzare nel caso una ragazza non ti risponde. Come questa ad esempio. L'attesa dell'uomo giusto non è stressante. Lo dice Giulia, 27 anni. O quest'altra. Sono una ragazza semplice. Nel bel mezzo di una conversazione visualizzo il messaggio e non ti rispondo più. Questa è solo una delle varie strategie che puoi applicare per riaccendere una conversazione morta. Se per esempio la conversazione si è spenta su Instagram puoi provare a riaccenderla commentando una storia della ragazza in questione o puoi scrivere qualcosa in base ad un post del suo profilo o come abbiamo appena visto inviare un'immagine di richiamo divertente. Oppure puoi condividere qualcosa di interessante su di te come inviare una foto di un piatto che hai cucinato o scriverle un messaggio simpatico del tipo ho appena scoperto di aver pestato una cacca di cane che ho spalmato sul tappetino dell'auto del mio amico che al momento è abbastanza incazzato. Hai qualche suggerimento per calmarlo? Come vedi ci sono numerose strategie che puoi applicare per sbloccare un visualizzato senza risposta. Ricordati che le donne vogliono divertirsi. I messaggi che invii devono essere leggeri e conditi da uno spirito giocoso. L'umorismo rappresenta il modo più veloce per riaccendere l'interesse di una donna e farla appassionare ogni volta che si imbatte nei tuoi messaggi. Se si diverte a chattare con te sarà ansiosa di incontrarti di persona. E dal momento che ti rendi conto che c'è un buon avanti e indietro di messaggi e quindi un buon feeling allora puoi cogliere l'occasione e invitarla a uscire. Naturalmente, se dopo diversi tentativi lei continua a non rispondere quello è il momento di concentrarti su qualcun'altra che mostra più entusiasmo nel connettersi con te. Se desideri approfondire l'argomento ho preparato una guida gratuita dove imparerai le sette strategie fondamentali per conquistare una ragazza su Instagram. Una volta scaricata la guida gratuita dal link che ti lascio qui in descrizione avrai anche accesso se lo riterrai opportuno al corso avanzato conquistagram. Sempre in descrizione ti lascio un altro link per un corso di seduzione a 360 gradi dove ti mostro come conoscere e conquistare nuove donne senza commettere errori aumentando così le tue probabilità di successo. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Ci vediamo al prossimo video. E non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti ma sono qui per farti fottere.